La Fondazione dei Santi Lorenzo e Teobaldo, creata e promossa dalla Diocesi di Alba, con una grandissima rete, quindi non solo un evento di un giorno, ma un modello che si ripropone a tutta l'Italia. Ecco i pensieri dei protagonisti che in qualche modo hanno prestato la loro mano e la loro intelligenza per sottolineare un valore aggiunto di questa creazione per tutto il Piemonte. Ho collaborato con mio fratello Don Mario Battaglino, paraco di Rodello, ho collaborato perché nascesse questa struttura di servizio a favore degli anziani e degli ammalati. Una struttura che ha preso uno spazio di presenza nel territorio non solo, ma anche oltre, e ha portato servizi e aiuti a tantissime persone. Per cui la residenza di Rodello, dopo 50 anni, può essere vista come uno degli strumenti belli che la Chiesa locale ha provveduto per dare una mano a chi ha bisogno di sostegno aggiunti soprattutto avanti nella propria età. Vedo assolutamente con favore la creazione di una fondazione, in quanto rende più forte e più incisiva la gestione di queste strutture che altrimenti sarebbero state piuttosto indebolite rispetto a quello che è la gestione e il mercato dell'assistenza alle persone. Io credo che il privato sia una costola importantissima e irrinunciabile del servizio sanitario regionale, direi anche nazionale. Col privato noi dobbiamo fare un patto, dobbiamo fare un patto di collaborazione, dobbiamo coprogettare e collaborare per avere la sanità del terzo millennio veramente a livelli elevatissimi. È un'esperienza che nasce con tutte le buone intenzioni, sia dal punto di vista anche della forma, di un'impresa sociale innovativa, per cui sono sicuro che sarà un successo anche per tutto il territorio della nostra diocese. L'importanza della fondazione è quella che ha radunato sotto di sé queste due strutture che sono molto importanti sia per il territorio, sia per le famiglie e sia per tutte le persone, operatori che lavorano presso le nostre strutture, sia quella di Cerretto Langhe che quella di Rodello. La struttura di Rodello è certamente la più nota, la più grande, la più bella di queste strutture, ma ce ne sono alle tre minori e che rappresentano la continuità di una storia che inizia nell'Ottocento di iniziative legate alle parrocchie nel campo dell'assistenza prima agli anziani e oggi anche a tutte le altre persone che ne hanno bisogno. La fondazione dei Santi è sicuramente un grandissimo strumento per migliorare la sinergia e l'attenzione verso i cittadini del nostro territorio in ambito socio-sanitario. La sanità è una nostra competenza costituzionale, la sanità in Piemonte è una sanità di eccellenza e questa io credo ne rappresenta un esempio concreto che vive da 50 anni e che sicuramente diventerà sempre più prezioso per tutti quanti noi cittadini di questa regione. Io sono molto lieto come Presidente dell'AMCI di poter dare un contributo al debutto di questa fondazione che sicuramente è una fondazione che lavorerà in sinergia con le varie agenzie territoriali e noi come ANCI sicuramente siamo disponibili a questo tipo di lavoro. Questa nuova fondazione entra in uno scenario importante e in un momento storico importante. C'è bisogno di tutti e due. La fondazione che raggruppi, riunisca e governi una serie di strutture oggi tutte d'eccellenza ma che lo saranno ancora di più. Io credo che sia un'iniziativa ambiziosa ma assolutamente lungimirante. La sanità sta cambiando, lavorare in rete credo che sia la cosa più importante per poter continuare a dare quei servizi d'eccellenza che il nostro territorio ha sempre avuto. La fondazione è stata una doverosa evoluzione giuridica di tutela della struttura anche perché prima questa struttura era legata essenzialmente alla parrocchia di Rodello. Oggi assumo una visione un po' più grande, un po' più generale e un po' più di visibilità da un punto di vista anche rappresentativo della realtà di Rodello. Ritengo che con una fondazione sia più facile portare avanti questo discorso di solidarietà anche insieme invece a quello che è la cura e il sostegno per i pazienti. Lo spirito che c'è dietro la fondazione gode della mia massima condivisione e sono orgoglioso di far parte, di lavorare per la fondazione. Questa fondazione nasce per volontà di Monsignor Brunetti Vescovo di Alba e anche, dobbiamo dire, per volontà di Don Valerio Pennasso, attuale presidente della fondazione. La fondazione nasce per aiutare i sacerdoti e per aiutare la collettività delle nostre langhe. La fondazione è un'iniziativa sicuramente incomiabile dal mio punto di vista all'obiettivo di raggruppare tutto un insieme di altrettanto incomiabili iniziative di assistenza sul territorio, soprattutto in ambito diocesano, che però ormai non riescono più da soli nelle piccole dimensioni a dare delle risposte sostenibili. Rodello è un modello di qualitativo di assistenza straordinario che ha fatto veramente grande questo territorio. La fondazione avrà, immaginiamo, ci auguriamo, gli stessi standard equativi di Rodello sarà certamente una fondazione che avrà grande successo e una lunga vita perché c'è una grande esigenza di questa forma di assistenza. La fondazione voluta dal Vescovo è un'agenzia territoriale che si occuperà della gestione giuridica, economica e anche pastorale delle varie strutture di cura e di accoglienza degli anziani. La fondazione dà un futuro all'impegno e alla generosità di persone che 50 anni fa hanno pensato di dare una risposta nuova alle esigenze della terza età e alle esigenze sanitarie. La fondazione, come sarà emerso, nasce per intervenire in un settore che è del sociale, socioassistenziale ma anche sanitario di integrazione, di supplenza nei confronti del pubblico che in questi anni sta operando con crescente difficoltà. È molto importante una giornata come quella odierna nel quale si ricorda quanto è stato fatto in passato il punto in cui si è arrivati, grazie al lavoro di tutti, in 50 anni. Si esprime molto bene la realtà solidale di una parte del nostro Piemonte. La fondazione ha cominciato a muovere i suoi passi in questi mesi con un ottimo consiglio di amministrazione che rappresenta un po' le varie realtà del nostro territorio. Credo che abbia dimostrato fin dall'inizio di avere quelle competenze e quelle capacità per sostenere questo impegno nell'ambito della sanità e soprattutto dell'assistenza qui nel nostro territorio albese possa quindi essere una valida risposta a questi bisogni e anche al bisogno formativo di cui veramente si sente tanto la necessità perché ogni cosa venga fatta con competenza, con attenzione, con scrupolo affinché le persone trovino qui un ambiente umano, un ambiente attento e capace veramente di accompagnarli in questo tempo difficile magari della loro malattia o della loro precarietà fisica.